Sono le generazioni di nativi digitali a essere maggiormente vittime delle truffe online, un fenomeno che continua a crescere. È quanto emerge dal report delle attività della Polizia Postale per la Sicurezza Cibernetica. Lo scorso anno si è registrato infatti un considerevole aumento dei tentativi di truffa sul web, con una crescita di questi reati del 6% dal 2022 al 2023 e un incremento del denaro sottratto che è passato da 114 a 137 milioni. E sempre negli ultimi 12 mesi sono invece 2.500 i siti di pishing individuati e bloccati da Airbnb, il portale online che proprio con la Polizia di Stato ha rinnovato la collaborazione al fine di aiutare i cittadini a riconoscere ed evitare i malintenzionati in rete. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, le generazioni più giovani, nonostante siano native e digitali, sono spesso meno attente alla sicurezza online. In Italia, secondo consumerismo, un terzo delle persone tra i 25 e i 34 anni ha subito almeno una truffa mentre faceva acquisti sul web. I millennial sono quindi propensi ad azzardare acquisti d'impulso per risparmiare, aumentando il rischio di incappare in truffe. Un dato preoccupante che riflette una tendenza europea. A questo proposito, la Polizia di Stato e Airbnb hanno stilato 8 regole d'oro per non incappare in truffe online. Utilizzare solo le piattaforme ufficiali, fare attenzione ai link sconosciuti, diffidare di offerte troppo allettanti, evitare i bonifici bancari, prenotare e pagare solo sulle piattaforme, controllare le recensioni degli ospiti quando si prenota una vacanza e contattare l'host dopo aver prenotato e infine segnalare dubbi o problemi così da poter gestire al meglio eventuali sospetti di truffa.